Allora, rame, secondo me è il materiale più facile da usare assieme al floss Il rame è veramente semplicissimo, vengono delle moschette molto lucide, molto catturanti e chi dice che il rame appesantisce l'amo vi posso garantire che non è assolutamente vero perché li ho pesati io col bilancino elettronico cambia uno 0,01 grammo di peso per cui non è una differenza così abissale come si pensa Allora, le moschette rame, come vi dicevo, sono semplicissime da fare, ancora più che col floss Allora, ci sono diversi tipi di rame con diversi tipi di colori in giro Io personalmente mi trovo molto bene con il rame della UTC anche se ho detto che non facevo pubblicità, comunque non penso ci siano problemi vi dico anche le marche, Massimo mi verrete trovare in prigione Allora, ci sono diversi pesi di rame c'è quello extra small che è quello che uso per fare i tinsel quello small che è quello che va benissimo poi c'è una misura superiore che comincia a diventare un po' grosso ma va bene per gli amici del 12 In questo caso abbiamo usato il solito amo del 14 dorato è dorato perché ho preso sul primo che mi capita può essere anche argento o bronzato, non cambia niente, va sempre bene Allora, Coca Cola facciamo una moschetta Coca Cola Allora, il rame lo si blocca invece di partire come col floss dall'inizio del amo partiamo dal fondo del amo do 3-4 giri e lui già rimane lì bloccato non tirate troppo i primi giri perché sennò si sfila una volta che ne ho fatti 5-6 già posso tirare quanto voglio che non si muoverà più di lì si va su, aspire molto serrate e non farle larghe perché sennò si vede sotto l'amo mentre se io tengo una spira contro l'altra è un corpo unico in questo caso lo faremo così nell'opzione, nell'altra versione diciamo vi farò vedere come si può fare con un doppio colore dà un bel effetto anche se penso sia nullo ai fini della pesca colore singolo va sempre bene allora, adesso la moschetta è già finita il corpo per, diciamo, tagliarlo non va tagliato con una cesoia o una lametta come abbiamo visto nel video precedente il rame basta tirarlo io lo tiro su verso l'alto lui si taglierà sempre a filo del lamo come vedete qui è già a posto io qui prendo una pinza perché purtroppo mi mangio le unghie non ho non ho le unghie chi ha la fortuna di avere le unghie è un colpo secco e viene via corpo già finito utilizziamo il solito floss sottile sempre della UTC 70 danari veramente per fare le moschette ci ho messo anni a cercare un floss che mi soddisfacesse perché gli altri erano sempre troppo grossi la moschetta a volte la testina si deformava mentre questo veramente fantastico sempre la moschette la testina della dimensione che vogliamo va bene così potete far più giri potete farne di meno cambia poco il nodo di chiusura sempre con l'annodatore allora vedo in giro dei video di moschette che usano l'annodatore quello conico che praticamente fai una diciamo una torsione sul filo e basta allora non è che non tiene tiene vi posso garantire però che con questo vedete che la moschetta è indistruttibile già adesso mentre con quello conico se non tirate abbastanza o fate solo un giro appena toccate dentro magari il filo vi si fa giù tutto per cui io consiglio l'annodatore poi vedete voi potete anche usare un goccino di collo e poi tagliarlo io mi trovo bene con questo sempre poi come per tutte le mosche andiamo a laccarla l'unico video che non vi farò vedere è il body anche se tanti diranno il body è il materiale per eccellenza a me personalmente non piace perché dopo un po' magari si scolla perde colore mentre le moschette o in rame o in floss vi posso garantire che sono eterne a meno che voi le perdiate le potrete utilizzare tutte le volte che volete non cambieranno mai di colore perché appunto rivestite di lacca la lacca fa da impermeabilizzante da isolante sempre su tutto il corpo ripeto qui faccio un po' più fatica che farlo manualmente perché essendo vincolato alla posizione del morsetto non posso muovere la mosca come voglio sempre su tutto il corpo della mosca cercate di dare conicità alla mosca vi metto ancora un goccino sopra per fargli il corpo più grossino all'inizio come sempre perdete qualche secondo in più la conicità la dà la manualità voi vedete me magari dite è facile è facile però come tutte le cose se faccio su 100.000 moschette viene più facile di uno che ne fa magari inizia ne fa 100 sempre la nostra lampada UV la luce blu che vedete è quella come detto già in precedenza questa lacca catalizza subito è veramente fantastica e poi soprattutto non rimane mai appiccicosa perché tante lacche che ci sono in commercio magari costano di meno ma o trovi proprio la luce giusta o se no rimangono sempre un po' appiccicaticce diciamo rimangono un po' non belle lisce mentre questo è proprio vetrifica e accetta tutte le luci UV in commercio perché purtroppo il raggio UV è una cosa abbastanza complicata perché se per esempio ci sono delle lacche che se non usi la loro lampada non asciugheranno mai perché hanno una larghezza di lumen diversa e non asciugano mentre questa che uso io poi se qualcuno vuole sapere ve lo dirò anche se l'ho già detto tante volte sul sito è la migliore che c'è comunque moschetta semplicissima come potete vedere è bellissima perché è molto lucente se guardi bene da vicino non so se la fotocamera del cellulare riesce a dare il dettaglio sono come delle piccolissime spire una attaccata all'altra dà un po' un effetto body e flossa allo stesso tempo dandolo così il rame non può essere tinselato perché il tinsel andrebbe a inserirsi nelle spire si allargherebbero leggermente le spire per cui non darebbe l'effetto tinsel per fare una cosa tinselata vi faccio vedere adesso nel prossimo video come si fa per la moschetta del rame è tutto grazie a tutti ciao